La meningite continua a colpire in Toscana. Una ragazza di 20 anni di Cecina è stata ricoverata all'ospedale di Livorno con un'infezione da meningococco C. Questa ragazza non era vaccinata. Per questo l'assessore regionale Saccardi rinnova ancora una volta l'appello a fare il vaccino. Io stessa, rivela da Saccardi, l'ho fatto l'anno scorso e invito quanti rientrano nelle categorie per le quali il vaccino è indicato a vaccinarsi dal proprio medico curante o negli ambulatori della ASL. Il vaccino, dice, è l'unico strumento sicuro contro il rischio di contagio. Ci sono stati, è vero, casi di persone vaccinate che hanno contratto lo stesso l'infezione. Questo non deve però allontanare dal vaccino che in quei casi è servito comunque ad attenuare molto la gravità della malattia. Voglio ricordare che la regione ha prolungato la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C fino al 31 marzo 2017. Dall'inizio del 2015 a oggi in Toscana sono 56 i casi di meningite che sono stati registrati, 31 nel 2015, 25 per ora nel 2016. Nel 2015 purtroppo erano decedute 7 persone, nel 2016 siamo già a 5, tutte per il CEPOC. Dall'inizio della campagna vaccinale straordinaria al 31 ottobre scorso sono state somministrate in totale 717.457 vaccinazioni. Gran parte effettuata da chi si trova nella fascia di età 20-45 anni. Al 31 ottobre risulta che abbia diritto il 77% dei pediatri di famiglia e l'85% dei medici di medicina generale.